Stando finalmente iniziando i lavori della fase 2 sul cantiere di Viale Regione Siciliana, questi 180 metri che vedete alle nostre spalle, abbiamo ricordato tante volte la storia di questo cantiere, si doveva concludere in due mesi, siamo giunti a 14, un cantiere iniziato a novembre del 2020, che però ancora non si è concluso, adesso è subentrata la nuova ditta, il cantiere è di competenza regionale, lo ricordiamo dell'autorità di Bacino, circa 180 mila euro di intervento che dovrebbero finalmente consentire la riapertura di Viale Regione Siciliana nel giro di quattro mesi. Finalmente da questa settimana ripartono questi lavori dopo tanti mesi di attesa e tanti disagi per i cittadini palermitani. Stanno facendo delle verifiche e dei carotaggi preliminari all'avvio dei lavori, il lavoro sarà poi alle nostre spalle sul canale Passo di Rigano, perché ricordiamo che il problema è l'intersezione dei due canali, che è proprio qui a qualche metro da parte nostra. Finalmente questa diatriba Regione Comune si è conclusa, noi abbiamo dato il nostro contributo come Movimento 5 Stelle, individuando con il deputato Varrica, sia in qualche modo attivando questo percorso, anche individuando le risorse, e c'è anche il problema delle risorse, abbiamo attinto da risorse nazionali. Un cantiere che come vedete anche nelle immagini sta causando comunque problemi. Chi è che arriva già dalla bretella si ritrova gli ingressi dall'arteria centrale di Viale Regione Siciliana. Come vedete tantissimi mezzi pesanti, tantissime auto. E insomma gli ingorghi, soprattutto nella giornata di oggi, con lo sciopero degli autotrasportatori di linea su Piazza Indipendenza si stanno manifestando in tutta la loro magnitudo anche qua su Viale Regione Siciliana.